Metti pausa, non si sente veramente ma c'è... Non riesco a muovere, non riesco a muovere, non riesco a muovere. Da che parte? Culi! No! Aiuto! Va, baby! Va, dov va! Tizi che lavorano a Padova! E adesso cosa dovrei fare? Cioè, arrivo qua. Come cazzo! È perfetta questa ripresa! Io ho fatto rec? Ok. Sta esplodendo la...